grande successo per l'open day vaccinale proposto dalla snapoli 3 sud lo scorso weekend la notte dedicata a vaccinare tutti coloro che erano riusciti a registrarsi in piattaforma nella serata di venerdì iniziativa che a breve sarà replicata proprio in scia al grande numero di adesioni ottenute l'open day ha sorpreso tutti anche il direttore generale sosto che si è detto enormemente soddisfatto della grande adesione alla vaccinazione da parte dei cittadini 7.997 sono state le persone a cui i vaccini sono stati somministrati finalmente una giornata di festa a margine di una grande tragedia commenta il direttore ecco definirei proprio così la gioiosa partecipazione di migliaia di ragazzi al weekend vaccinale organizzato dall'azienda sanitaria napoli 3 sud in qualche caso le attese continua sosto si sono un po' protratte rispetto al previsto segno di una risposta convinta da parte dei giovani che ancora una volta come spesso accaduto dall'inizio di questa maledetta pandemia hanno saputo in larga parte dimostrare consapevolezza del momento senso di responsabilità e attenzione verso il prossimo per troppi mesi hanno dovuto rinunciare a parte delle loro vite con pesanti limitazioni agli spostamenti agli incontri alla società all'apprendimento con la paura di compromettere la salute dei propri cari genitori nonni zii una condizione anomala da cui è possibile rientrare solo grazie al vaccino questo è il messaggio che i ragazzi grazie alle iniziative vaccinali loro dedicate hanno dimostrato di comprendere fino in fondo intraprendendo la vaccinazione stessa come un rito liberatorio una festa collettiva certo il percorso è ancora lungo ma l'alba si intravede dopo il buio della notte più lunga una festa resa possibile dalla disponibilità dei tanti operatori sanitari una festa resa possibile dalla disponibilità dei tanti operatori sanitari e non impegnati anche a tutti loro deve aggiungere un forte messaggio di gratitudine